Vincitore del Golden Globe 2017 per miglior film drammatico applaudito dalla critica di tutto il mondo, Moonlight racconta l'infanzia, l'adolescenza e l'età adulta di Cairon, un ragazzo di colore cresciuto nei soborghi difficili di Miami, che cerca faticosamente di trovare il suo posto nel mondo. Un film intimo e poetico sull'identità, la famiglia, l'amicizia e l'amore, animato dalla interpretazione corale di un meraviglioso cast di attori. Lidl ha dieci anni ed è il bersaglio dei bulli della scuola. Sua madre si droga, lui trova rifugio in casa di Juan e Teresa dove può parlare poco ma sa che può trovare le risposte alle domande che più gli premono. Nero frassoli neri dei suoi coetanei non condivide l'atteggiamento aggressivo, l'arroganza che indossano fin da piccoli. Cairon è questo il suo vero nome, non è un duro ma nemmeno un debole, è gay anche se non lo dice, non sa essere chi non è, non sa e non vuole adeguarsi, così si ribelle e finisce in prigione quando esce Black diverso, cambiato apparentemente un altro ma sempre lui. Diviso in tre capitoli che portano per titoli differenti nomi del protagonista, Moonlight è un ritratto allo stesso tempo sociologico e introspettivo della vita di un ragazzino gay nel cuore della comunità nera macista e criminale della Florida. Sarà in programmazione al Cinema Esperia di Bastia Ombra da venerdì 31 marzo a mercoledì 5 aprile.